Sono 456 gli indagati nei confronti dei quali la direzione distrittuale antimafia di Catanzaro ha chiesto rinvio a giudizio nell'ambito della max inchiesta rinascita Scott condotta contro le famiglie d'Indrangheta della provincia di Vibo, Valencia. Sono state individuate ben 224 parti offese che potrebbero diventare altrettante parte civili nel processo. Si tratta dei comuni del Vibonese, della Regione Calabria, della Prefettura, del Ministro di Giustizia e di privati imprenditori vessati dalle cosche taglieggiati sottoposti a minacce. 23 sono le posizioni stralciate rispetto alla visione di chiusura indagini tra gli imputati eccellenti. Figura l'avvocato Giancarlo Pittelli, penalista ed ex parlamentare di Forza Italia, poi passato a Fratelli d'Italia. Il capo di imputazione, scritto dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, contempla 438 reati. A dettare legge nel Vibonese erano la cosca Mancuso, al vertice della locale di Limbadi, la cosca La Rosa, indrina di Tropea e la consorteria Fiarè Razionale Gasparro, a capo della locale di San Gregorio di Pona. Poi ancora la cosca Lo Bianco Barba e i Camillo Pardena, dominanti sulla locale di Vibonese a città. La cosca Accorniti, del locale di Zungri. La cosca Piscopisani, a capo della locale di Piscopio. La cosca Bonavolta, nel locale di Santonofrio. La cracolici, indrina di Filugasso e Maierato. La cosca Soriano, di Filandari, Ionadi e San Costantino. La cosca Pititto, Prustamo e Annello, invece, della società di Mileto. Ed infine la cosca Patania, della locale dominante a Stefanaconi. Rinascita a Scotta, colpito per la prima volta tutte le indrine del Vibonese, è anche la rete di rapporti tra dranghettisti e ambienti imprenditoriali, politici e massonici. I magistrati della DDA di Catanzaro considerano la criminalità vibonese un vero e proprio cartello, un dranghettistico trasversale che rappresenta le locali di Indrangheta, appunto, della provincia di Vibo. E i capi sono una sorta di direttorio criminale denominato a Caddara, avente decisiva influenza in tutta la zona.